Fra, c'è sto posto dove fanno... Dove che l'avevo visto? Fanno un falò gigantesco In Estonia lo fanno Fra, gigante Tipo, e dopo si shita rotti a mare Si, in Estonia lo fanno Tipo poco fa è stato Una settimana fa Lo fanno... In realtà lo fanno a Capodanno Ah